Musica Dibattito in aula sul futuro di Fili Toscana dopo la comunicazione dell'assessore all'economia Leonardo Marras. La giunta regionale valuta la trasformazione di Fili Toscana in una società in house della regione. Per questo la direzione attività produttive è indetta una procedura negoziata per l'affidamento ad un esperto esterno. La durata prevista dell'appalto indicativamente si concluderà con la fine del 2021. Non sarà la Fili Toscana ad entrare nel capitale delle aziende. Non è questo quello che serve. Serve una società finanziaria come è la Fili Toscana, oggi mista con capitale anche delle banche, non solo della regione, ma come lo sono tante altre finanziarie a totale capitale delle regioni in Italia, per offrire alle imprese strumenti che facilitano l'accesso al credito, che servono meglio dal punto di vista del mercato finanziario e che oggi più che mai di questo c'è bisogno. Noi dobbiamo avere la capacità di fare prima possibile, ma questo prima possibile dipende dalla possibilità di compiere una valutazione ponderata, motivata, profonda, che solo una analisi specializzata di un advisor di cui noi ci stiamo dotando potrà offrirci. E alla fine avere la possibilità di un nuovo strumento, appunto una Fili Toscana rinnovata, a partire già dall'anno prossimo, quando saranno operativi i programmi regionali con i fondi strutturali europei, credo che sia sufficientemente buono per affrontare una nuova fase di ripartenza dell'economia toscana. Dobbiamo valutare perché vogliamo trasformarla in in-house, cioè una società a totale partecipazione pubblica che mette la regione nella possibilità di usarla liberamente, direttamente, in modo flessibile. Rispetto al passato, al recente passato, sono già state dette avanzate critiche, lo ha fatto prima di tutto la Banca d'Italia. Ma io ricordo i numeri. Emergenza Economia e un prestito della regione di 102 milioni ha prodotto 1 miliardo e 400 milioni di investimenti delle imprese toscane, affrontando così la crisi finanziaria del 2008-2010. Ecco, mi basterebbe anche qualcosa di meno, se riuscissimo ad impostare una politica che abbia quella imponenza e quella capacità di efficacia e di azione nei confronti dell'economia toscana. Non è un passato esaltante, soprattutto negli anni a cavallo, fra il 2009 e il 2013, quando anche Banca d'Italia è intervenuta pesantemente per riprendere la finanziaria regionale. È ovvio che l'ultimo Consiglio d'amministrazione ha lavorato soprattutto per recuperare le perdite che si erano accumulate negli anni scorsi e gli ultimi due bilanci hanno chiuso in positivo. Ma questo non può più essere sufficiente. Per questo è partita la riflessione sul futuro della finanziaria regionale, una finanziaria che dia sostegno ai cittadini e alle imprese toscane. E per farlo, naturalmente, dobbiamo capire quale modello seguire, perché in realtà mezza Italia si è già mossa, dalla Lombardia alla Liguria, dal Lazio alla Puglia, tutte le altre regioni si sono dotate di uno strumento più flessibile che utilizza anche sistemi innovativi come i mini bond per finanziare le attività imprenditoriali del proprio territorio, mentre in Toscana ci stiamo ancora attardando in attesa della nomina, attraverso un bando di un advisor che faccia la valutazione della società e quindi ci dica se si può spacchettare le partecipazioni private che sono rimaste, cioè le due grandi banche, Monte dei Paschi e Intesa San Paolo, più un'altra serie di istituti di credito con percentuali, diciamo, molto basse di partecipazione. Dopo che, lo voglio ricordare, tutti gli enti locali, circa 78, che facevano parte del capitale di Fidi Toscana, negli ultimi due anni sono usciti dal capitale sociale dell'azienda. In questo caso, rimettendo, come abbiamo detto a Gianni, nelle mani del governatore e della politica regionale, una grande responsabilità, perché gli enti locali sono i primi rappresentanti dei cittadini e delle imprese del nostro territorio e si aspettano che la regione sappia trovare uno strumento utile che con mezzi moderni sostenga l'economia locale. Fidi Toscana, negli ultimi dieci anni, ha perso 47 milioni di euro. Negli ultimi dieci anni ha bruciato quasi 70 milioni di euro di capitalizzazione. Questo è quello che è successo in Regione Toscana con Fidi Toscana. E non può andare avanti perché ormai c'è stata la modifica della lettera L del decreto Bassanini, le garanzie le dà il credito centrale e quindi è anacronistica tenuta così come oggi. Però non ci ha soddisfatto perché non ci ha detto dove andremo. La faremo in house? Con quali tempi? Se continuiamo così, Fidi Toscana perderà dai 3 milioni e mezzo ai 5 milioni di euro ogni anno. E non possiamo permettercelo perché il nostro territorio e le nostre imprese hanno bisogno di un istituto di credito regionale che eroghi non solo le garanzie, ma che eroghi direttamente i soldi. E questo deve essere fatto insieme a Sviluppo Toscana. La Regione Toscana deve sostenere un processo di fusione e di accorpamento, ma lo deve fare in tempi rapidi. Noi siamo per una società in house, sul modello così come nel resto d'Italia. Fidi Toscana è l'unica finanziaria regionale che non è in house ma che è partecipata dal privato. Fra l'altro la domanda che abbiamo fatto oggi in aula è ma col privato ci avete parlato? Ma sono disposti a cedere le quote? E quanto ci costano quelle quote là? Queste sono le domande alle quali non abbiamo ancora ricevuto risposte. Credo che sia ormai arrivato il momento di una struttura in house più agevole, più snella, che sappia rispondere direttamente alle esigenze della politica, del territorio, della conoscenza delle imprese e che non si vada a sostituire a soggetti finanziari perché quell'esperienza a mio avviso non è stata positiva. Il tempo non ci consente più di procrastinare delle scelte. C'è una Toscana che deve ripartire ed ha bisogno di strumenti che siano adeguati ai tempi. L'advisor finirà la sua missione, così ci dicono, tra 11 mesi alla fine dell'anno. Noi pensiamo invece che questa procedura debba avere dei tempi molto più accelerati, debba dare delle risposte importanti in tempi rapidi perché il nostro sistema, la nostra economia, la crisi non dà tregua. Noi non vogliamo che si facciano operazioni premature che però poi magari non siano efficaci, anche tenuto conto di quelle che sono le richieste delle associazioni o comunque del sistema economico, che poi implicano l'impiego di risorse pubbliche importanti senza dare risultati efficaci. Non vogliamo ripetere gli errori del passato. Credo che alla fine sia giusto, dopo aver ascoltato tutti, poter assumere delle decisioni che siano molto consapevoli e che soprattutto dotino la Toscana di uno strumento che sia maggiormente flessibile, immediato, che possa veramente essere utile alle nostre imprese appunto per essere sostenute e accompagnate nell'ambito del mercato finanziario. Nei prossimi anni arriveranno anche risorse importanti dal PNNR, arriveranno dai fondi europei, dai fondi nazionali e credo che questo sarà ovviamente l'aspetto molto più importante, ma avere uno strumento di intermediazione sarà altrettanto fondamentale per cui questo percorso si dovrà concludere con la decisione che sarà sicuramente la più consapevole e sarà la più adeguata, tenendo conto anche delle esperienze che altre regioni hanno fatto attorno a noi. Il nostro dovere è quello di dare una risposta non soltanto dal punto di vista delle risorse, ma anche dal punto di vista degli strumenti. Fidi Toscana dovrà rispondere a questa ultima definizione. No, non siamo assolutamente soddisfatti, lo abbiamo evidenziato, lo abbiamo detto in aula, lo abbiamo detto con grande forza. Il difensore civico per noi sta sbagliando indirizzo, fra l'altro ci sono delle voci che non ci tornano assolutamente. Abbiamo visto che ci sono delle spese per buffet, 2.137 euro per un buffet offerto a Siena a 100 persone. Abbiamo visto che c'è una spesa di 900 euro per un convegno ad Arezzo dove è stato offerto un altro light lunch. Abbiamo visto che ci sono spese per 20.000 euro per una consulenza in comunicazione. Abbiamo visto che c'è un'altra consulenza per 9.700 euro per un'altra consulenza in comunicazione. Abbiamo visto che negli ultimi anni, cioè da quando è entrato, si è insediato questo difensore civico. Nel 2018, nel 2017 le spese per l'attività erano 2.137 euro, 2.400 euro. Oggi nel 2018 siamo arrivati a spendere 40.000 euro, con uno stipendio da 63.000 euro e con 12.000 euro di rimborsi annui. Ecco, tutti questi numeri non ci tornano a noi. Per questo abbiamo votato contro alla relazione e fra l'altro abbiamo votato contro anche perché i numeri danno torto a questo difensore civico. Le pratiche sono meno, sono 1.536, quindi meno di quelle che venivano fatte nel 2017, nel 2016 o nel 2015. A fronte di tutto questo abbiamo queste spese. Noi vogliamo un difensore civico che risponda ai cittadini, che lo faccia in tempi certi e non spenda i soldi dei contribuenti in comunicazione. Il difensore civico ha fatto un grandissimo lavoro, ha svolto un lavoro straordinario, soprattutto nelle attività di conciliazione, di mediazione. Lo ha fatto sia in ambito sanitario quando nelle aziende sanitarie si è posto come interlocuzione dei soggetti deboli, fruitori del sistema sanitario per trovare livelli di conciliazione. Lo ha fatto soprattutto al cospetto delle autorità idriche e lo potrà fare, come ho chiesto io, nei prossimi anni anche come interfaccia del settore energetico e del settore delle multiutility. Quindi serve qualcuno che, tra virgolette, aiuti i più deboli a difendersi da questi macro soggetti economici che ormai non sono più radicati o presenti nella porta accanto di un territorio, ma che magari è molto difficile anche con i quali parlarci, difendere il cittadino al cospetto della varietà dei multi servizi che oggi una persona deve fruire. Esprimo soddisfazione per l'attività. Posso dire che sta diventando sempre più importante la funzione del difensore civico anche in tema di sanità, che diventa quanto mai attuali, anche se non sono siglate ancora tutte le convenzioni con le aziende ospedaliere, ma anche quella pisana e il Meyer. Posso dire che è brillante il lavoro del difensore civico per quanto riguarda la conciliazione, presso a Rera, presso all'autorità idrica toscana. Ci sono sicuramente degli aspetti da affrontare, quella di cercare di favorire sempre più la conoscenza di questo istituto anche tra i giovani, che poi non mancherebbero i problemi anche per i giovani. Non ci sono soltanto le bollette da pagare, ma ci sono anche, ad esempio, il problema delle borse di studio. Occorrebbe far sì che si conoscesse sempre di più questo istituto e noi vogliamo questo. Stiamo cercando di dare il contributo fattivamente. Il difensore civico continua a essere un'istituzione molto importante per la regione toscana e gli appunti che sono stati fatti naturalmente ne abbiamo preso atto, però rimane comunque sia uno dei baluardi per la difesa del cittadino, specialmente in questi momenti. Quindi è importante riuscire a collaborare insieme. Sarà l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a norma di quanto stabilito da regolamento interno a proporre nelle prossime ore un ufficio di presidenza provvisorio per la Commissione speciale per il supporto, il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Durante la seduta di insediamento infatti non è stata raggiunta la maggioranza richiesta per la nomina dell'ufficio di presidenza della Commissione speciale. Uno spettacolo indegno, indegno proprio della peggiore politica che si sente raccontare o si vede nei film. Oggi grazie all'ostruzionismo, perché non si può chiamare in un altro modo di Forza Italia e di Italia Viva, si è fatto di tutto per impedire la nascita di questa Commissione. Abbiamo perso un pomeriggio solo per decidere che doveva fare il presidente e vicepresidente, con tutta una serie di cavigli legati al regolamento che a mio avviso sono inammissibili. Noi non comprendiamo come questo possa accadere se non per una schizofrenia legata probabilmente a posizionamenti e a divisioni della minoranza, perché una parte non aveva già partecipato alla Commissione speciale. Cioè una parte ha dato l'ok per quanto riguarda una proposta che prevedeva la vicepresidenza al loro appannaggio e poi non la si vota. Quindi mi sembra che più che parlare di divisione della maggioranza si debba parlare di schizofrenia da parte della minoranza. Abbiamo portato la nostra proposta di ufficio di presidenza che evidentemente ha scaturito qualcosa all'interno della maggioranza per cui poi Scaramelli non si è sentito nemmeno di votare sostegni. Quindi il problema evidentemente è tutto afferibile alle dinamiche che purtroppo vediamo accadere dall'inizio della legislatura all'interno della maggioranza. Io dico solo che noi eravamo pronti il giorno dopo per partire con questa Commissione speciale, perché riteniamo che i disagi debbano essere risolti e che ciascuno di noi possa portare un contributo. Riteniamo che la scelta legittima fatta dal PD di rimettere in Commissione vaccini gli stessi componenti della Commissione sanità sia un po' una sorta di presa in giro nei confronti dell'opposizione, perché noi pensiamo che questa Commissione debba essere autonoma, indipendente e debba lavorare seriamente. Gli stessi membri della Commissione sanità il Partito Democratico li ha riportati nella Commissione speciale sui vaccini. Noi l'abbiamo considerato un atto veramente poco coraggioso e soprattutto un atto che non avrebbe fatto né luce né chiarezza, da un lato che non avrebbe portato nessun tipo di contributo. Per questo, come Forza Italia, nonostante avessimo detto di sì all'istituzione, oggi abbiamo detto che non siamo disponibili a partecipare alla Commissione speciale. In realtà produce ulteriori frizioni all'interno della maggioranza e all'interno del Consiglio stesso, quindi parte nel peggiore dei modi. Noi abbiamo deciso come Fratelli d'Italia di starne fuori. Per ora i fatti ci danno ragione. Vediamo che cosa succede, direi, nei prossimi minuti e comunque nei prossimi giorni. Noi vogliamo informare insieme i cittadini toscani. Ci aspettiamo che il lavoro di questa Commissione, ogni giorno che si va a riunire, alla sera dia comunicazioni, sia questa la comunicazione istituzionale e formale della Toscana dai cittadini in merito ai vaccini. E dal giorno dopo si facciano le cose che questa Commissione ha deciso di fare. In maniera collegiale siamo per dare un contributo, non siamo per prendere una poltrona, non ci appartiene, motivo per il quale non abbiamo partecipato alla discussione in merito a una poltrona in più o meno. Grazie a tutti.